È notte e in una giornata di fine Cinquecento per queste strade passeggia Antonio Diedi che però sfortunatamente cade in un posto. Il posto si trovava qui nell'angolo fra le vie Cavour e la via Pasolini e davanti a lui era presente una sacra immagine raffigurante la Madonna. Antonio però che nel frattempo era ancora a testa in giù dentro il posto chiede aiuto proprio alla Madonna e a un certo punto dei passanti sentono le sue grida e ovviamente lo aiutano ad uscire. Solo che nonostante il volo Antonio non ha nessuna ferita tanto che si grida al miracolo e sul posto viene costruita una piccola chiesina per ricordare l'evento. La chiesina poi viene spostata nella zona dell'attuale San Domenico. La chiesa oggi non esiste più chiusa nel 1846 ma proprio dentro questo negozio che ringraziamo si trova una testimonianza della sua presenza. Come potete vedere nel dipinto è raffigurata la storia di Antonio e proprio qui si trovava la chiesa di Santa Maria del Posto. Ravenna in un minuto. Grazie a tutti.